Signori Sputnik, film russo di fantascienza del 2020, passa anche come horror, ma secondo me gli horror sono quelli coi demoni, però è carino, non è un capolavoro, non è un capolavoro, per carità, però sicuramente è meglio di Cosmic Scene. Beh, voto 7.3, lo trovate su Rai Prey al momento, quindi sicuramente lo passeranno in tv in questi giorni sulla Rai. Un saluto a tutti, iscrittevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao!